Come si sta adesso? Benissimo, da meraviglia, guarda. Cosa c'era in quell'ultimo primo tempo? C'era tutto, c'era sacrificio di squadra, sacrificio personale, ce lo meritavamo e basta. Credo che quando noi giochiamo si vede cosa siamo, quanto forti siamo, quanto belle siamo, quindi siamo state bravissime. Una serie così, cosa ti dà anche in prospettiva futura? Niente, tanta cazzimma, in alcune situazioni abbiamo dovuto tirar fuori veramente gli attributi e niente, sono contenta di quello che ha fatto la squadra, siamo state bravissime. Dopo gara 3 vi siete dette qualcosa? Dopo gara 3 ci siamo dette che noi non siamo quello che avevamo fatto vedere fino a quel momento, c'erano troppi errori, troppe cose che non andavano. No, noi siamo diverse, quando noi giochiamo non ce n'è per nessuno, quindi complimenti a Monza che ci ha fatto arrivare a gara 5 perché sono state brave anche loro, però noi siamo questo. Adesso come si festeggia? Facendo casino, non lo so, vediamo.